Ma buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Siccome da quando ho aperto il canale me l'avete chiesto in tantissimi, ho finalmente deciso di fare un video dedicato sull'argomento. Oggi, infatti, vi voglio raccontare di quali siano gli step fondamentali per iniziare a correre in go-kart senza sprecare troppi soldi e in modo sicuro. Prima di iniziare con il video però vorrei ringraziare tutti i ragazzi fantastici della community che ogni giorno mi tengono compagnia e si divertono con me sul mio canale Twitch. In questi giorni difficili state dimostrando un grande affetto e attaccamento al canale e gli state dando un supporto veramente veramente enorme. Per chi ancora non fosse riuscito a passare vi invito a cliccare qui su nelle schede oppure nel link in descrizione iscrivendovi al mio canale di gaming ma soprattutto tenere d'occhio la mia pagina Instagram dove regolarmente vi informerò su quando sono online sul mio canale Twitch. E ora, sigla! Avvicinarsi per la prima volta al mondo del karting può essere veramente difficile e costoso. Purtroppo non è come giocare a calcio con gli amici che per iniziare basta andare all'edicola e comprare il supertele. Ci sarà ancora il supertele? Per il karting ci vogliono soldi, studio, costanza e pazienza. Non riesco ad aprire l'anulare senza aprire anche il mignolo. Ecco, per quanto riguarda i soldi non voglio dire che bisogna essere ricchi. Conosco infatti un sacco di persone normali con lavori normali che riescono a permettersi di andare a girare in kart ogni domenica e talvolta permettersi anche qualche garetta. Quindi non demoralizzatevi! Infatti, una delle cose più difficili di quando si inizia a correre con il go-kart non è tanto il sostenere le spese in sé ma è piuttosto evitare di buttare via i soldi e di farsi fregare. Ma su questo ci torniamo dopo. Allora Gabà, qual è il primo passo da fare? Beh, sicuramente se non avete mai provato un kart o se siete proprio alle prime armi piuttosto che buttarsi subito a capofitto con l'acquisto di un go-kart sicuramente il mio consiglio è quello di allenarvi per due o tre mesi sui kart a noleggio. Sebbene i kart a noleggio non abbiano le stesse prestazioni e abbiano una dinamica del mezzo leggermente diversa da quelli dei kart a competizione il kart a noleggio o rental kart vi può sicuramente dare delle basi solide sul funzionamento generale di questi mezzi. Potrete ad esempio iniziare a familiarizzare con la frenata col piede sinistro abituarvi allo sforzo fisico da sostenere per girare il volante prendere confidenza con le traiettorie da gara imparare il comportamento corretto da tenere in pista per una buona convivenza con gli altri piloti che molti professionisti non hanno ancora imparato e perché no, se siete con qualche amico in pista potrete imparare qualche tecnica di battaglia da utilizzare poi in gara in un futuro. Potrebbe sicuramente all'inizio sembrarvi una perdita di tempo e uno spreco di denaro ma vi assicuro che non è così. Per essere dei bravi 100 metristi dovete saper correre veloce ma se non imparate prima le basi e la tecnica per imparare a camminare veramente bene allora non arriverete mai ad eccellere. Per quanto riguarda il rental vi consiglio di concentrarvi esclusivamente sulle piste outdoor quindi le piste all'aperto per due motivi. Queste piste saranno le stesse nelle quali correrete in futuro con il vostro kart privato quindi ogni giro effettuato con il kart a noleggio vi farà prendere confidenza con le giuste traiettorie e con le asperità e particolarità di quel tracciato. Il secondo motivo invece è networking ovvero fare conoscenze. Le piste di kart pullulano di piloti e team che sono nel business da anni. Quindi questo significa che recarsi in pista anche solo a bersi un caffè o guardare gli altri piloti girare può essere un'ottima occasione per portarsi a casa qualche prezioso consiglio e qualche dritta per migliorare. La comunità kartistica sebbene sia un po' chiusa è formata da persone fantastiche che sono sempre disponibili a darsi una mano a vicenda. Oltre a ciò per molti il karting è un vero e proprio posto di lavoro. Basta pensare a tutti i team che sono ogni giorno in pista a fornire servizi ai privati. Una bella chiacchierata con un team manager potrebbe aprirvi la strada ad esempio ad ottenere una buona offerta magari uno sconto sull'acquisto del vostro primo kart oppure uno sconto sulla vostra prima giornata in pista ad esempio. Quindi il mio consiglio è andate in pista presto quando ancora girano i privati. Parlate, chiedete, rompete le palle e fate conoscenze. Per quanto riguarda il mondo karting rental in sé non sono molto esperto. Ma per fortuna qui su YouTube c'è il bravissimo Vadoalmax che tratta principalmente di karting rental. Quindi vi consiglio di fare subito un salto sulla sua pagina vi lascio il link quindi alle schede che è in descrizione guardate tutti i suoi video e chiedete a lui se avete bisogno. Ma ora secondo step. Bene avete provato i kart rental siete gasati siete carichi siete veloci e ora volete passare a qualcosa di più professionale. Beh è arrivato il momento di comprare il vostro kart giusto? Sbagliato! La cosa che vi consiglio assolutamente di fare due o tre volte prima di acquistare il vostro go kart è quella di noleggiare un kart da competizione presso un team. Ecco raga questa probabilmente è una delle cose più costose che potrete fare nella vostra carriera kartistica. E vi starete chiedendo quindi perché ce lo consigli? Beh per due motivi principalmente. Il primo è il più ovvio prendere confidenza con un mezzo da competizione e capire se fa per voi prima dell'acquisto del vostro mezzo. Il secondo motivo è quello che reputo il più importante ovvero osservare ed imparare. Io vi assicuro che quando comprate un kart e siete alle prime armi gestire il mezzo le prime volte non è così semplice. Investire questi soldi per affiancarsi a un team di professionisti e avere la possibilità di osservare quali sono le normali procedure di accensione di manutenzione e dello svolgimento di una normale giornata in pista secondo me sono i soldi meglio investiti. Avrete la possibilità di fare domande prendere appunti e capire come si gestisce un mezzo da competizione in pista prima ancora di possederlo. E credetemi avere questo know-how questa conoscenza vi può aiutare tantissimo quando deciderete di acquistare il vostro mezzo evitandovi tante giornate in pista sprecate soldi buttati errori anche gravi ma soprattutto evitando di rischiare la vostra sicurezza. Perché ricordiamocelo sempre il motorsport è pericoloso. Spesso noi piloti ce ne dimentichiamo ma ogni volta che scendiamo in pista mettiamo a rischio la nostra vita. I costi tuttavia sono davvero elevati si parla dai 250 ai 500 euro in base alla tipologia di kart che noleggiate e al team che ve lo noleggia. Quindi vi consiglio di trovarvi un amico che vuole provare anch'esso il kart e di dividervi la spesa. Tanto la cosa più importante come detto è quella di osservare ed imparare piuttosto che il trascorrere il più tempo possibile in pista. Qui invece mi voglio collegare ad uno dei pericoli maggiori che si possono incontrare nel mondo del karting. Farsi fregare dai team più furbetti e da venditori poco onesti. Uno squalo riconosce subito quando un pesciolino ha appena iniziato a nuotare e quindi sarà molto facile per lui approfittarsene. Il motosport purtroppo pullula di questi elementi e non è sempre troppo difficile incappare nelle loro trappole. Quindi vi dico adesso quali sono i miei tre consigli per evitare di farvi fregare. Numero uno diffidate e state alla larga di chi sparla di altri team e degli altri operatori del settore. La regola è chi sa fare fa. Chi non sa fare e vuole tirare acqua al suo mulino insegna e sparla. Numero due diffidate dalle offerte troppo belle. Nel karting come nella vita le cose di qualità hanno un prezzo. Se un telaio e un motore costano troppo poco è perché hanno qualcosa che non va. Se una giornata in pista costa troppo poco probabilmente il team vi terrà più tempo a chiacchierare i box che a farvi scendere in pista. Consiglio numero tre come detto prima parlate con gli altri kartisti. Fatevi consigliare da chi è già inserito nel settore fategli domande rompetegli le scatole chiedetegli pareri stile trip advisor sui team e gli operatori del settore della vostra zona perché no? Ma adesso arriviamo alla parte più importante quella che stavate tutti aspettando. Con quale tipo di kart devo iniziare? Ma non lo faremo in questo video perché sennò diventerebbe troppo lungo e senza senso. Lo faremo nel prossimo video che esce tra pochissimo tra pochissimi giorni è già pronto se volete vederlo e sapere qual è il mezzo giusto per iniziare ad andare in go kart mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina in modo da non perderlo. Inoltre tutto se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like in modo da farmi sapere che questa tipologia di video vi piace così che io ne possa proporre. vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina Instagram sulla mia pagina Twitch dove sono live quasi ogni giorno e per il resto siccome oggi è sabato vi auguro un buon weekend. Grazie per aver guardato questo video ci vediamo al prossimo con la seconda parte. Ciao raga! Ciao!